Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato da Wicom della collezione Holy Shake Diciamo che è una collezione abbastanza grande comunque Io ho acquistato solo 3 prodotti Anche perché uno dei 3 è la palette Ho visto che comunque i prezzi sono leggermente più alti rispetto al normale secondo me Soprattutto per la palette che costava 25€ Infatti fino all'ultimo non la volevo prendere In realtà inizialmente volevo prendere un pennello Però poi alla fine su consiglio del mio ragazzo ho preso la palette Sia perché pennellino ha tantissimi, non che palette non ne abbia Però comunque magari la sfrutto di più, non lo so, era più carina Pur costando il doppio rispetto al pennello E appunto ho preso 3 prodotti e mi hanno regalato anche la cover Adesso vi mostro i prodotti che ho preso e vi faccio le swatch e vi dico quali sono le mie prime impressioni In realtà questa collezione l'avevo già vista consultata a Firenze Però pensavo che fosse già, che l'avessero già portata qui in Sardegna Quando sono tornato non era disponibile E invece era disponibile c'è un paio di giorni fa Appena l'ho vista disponibile che sono andata in quel negozio Perché da noi da Wicon, c'è un negozio Wicon qui a Caglia ce n'è solo uno E quindi sono andata, l'ho vista e l'ho voluta prendere E niente vi mostro tutto E voglio partire per prima cosa subito dalla palette che è questa qui Questo è il packaging esterno Ci sono praticamente 9 ombreti da 1,8 grammi A 18 mesi di PAO E praticamente questo è il packaging esterno Ha uno stile un po' dell'India Non lo so, molto molto particolare E mi piaceva tantissimo Questo si chiama Wall of Colors High Palette Ed è molto particolare perché Praticamente tutti gli ombretti hanno un nome di una città E mi piaceva tantissimo questo All'interno la scatolina è fatta così Quindi vedete la mano di Fatima disegnata qui E la palette è fatta così Quindi ha questa colorazione così Non fucsia ma un violetto Non lo so, è molto particolare Ha 18 mesi di PAO Non so se ve l'ho detto C'è lo specchio come sempre Uno specchio gigante qua E la palatina è fatta così Quindi ha delle colorazioni che secondo me possono essere utilizzate anche in questo periodo E anche d'estate secondo me Si possono fare tantissimi look Perché ha tantissimi colori di varie tonalità Praticamente sono Cinque Matte E quattro no Praticamente la prima fila è tutta matte E poi sono matte Questo nero Questo che si chiama Amsterdam Che sembra un rosino Un incrocio tra un rosa e un pan Adesso vi faccio il swatch E vediamo insieme la pigmentazione Allora ho notato che La pigmentazione di quelli matte È molto maggiore Rispetto a quelli che sembrano Non tanto shimmer Ma quanti sembrano così metallizzati Soprattutto Quelli che mi sono piaciuti meno Sono quello che si chiama Oslo Che sembra un bianco Che ha un po' del champagne all'interno È quello celeste che si chiama Buenos Aires Però gli altri mi piacciono tantissimo Mi piace tantissimo sia il giallo Che quello Il marrone matte Ma anche il viola naturalmente Mi piace tantissimo questo che si chiama New Delphi New York Pur io non utilizzo tantissimo il nero Soprattutto perché l'utilizzo Solo Qualche volta Ma raramente Però Non sono una persona Che utilizza tantissimo il nero Però ho visto che è molto molto pigmentato È un nero molto scuro E può essere utilizzato anche come Magari utilizzando un pennellino Molto stretto Come il riga di eyeliner Non lo so Mi piace tantissimo Con pigmentazione mi piace tantissimo L'unica cosa E quello che mi piace meno Questo celestino Che secondo me È quello meno pigmentato di tutti Ho dovuto fare anche Due o tre passate E niente Fatemi sapere se voi l'avete presa O se vi siete bloccate dal trezzo Poi ho acquistato Una matita per occhi Che secondo me Era quella più particolare Si chiama Graffiti High Pencil Nella colorazione 03 Blu A 18 mesi di Pao Questo è il packaging esterno Quindi come quello della palette Sempre nero Con tutti questi disegni Così Sempre disegnata Alla mano di Fatima Ma lo so Era molto molto carina Comunque come sempre Vi lascio il link dei prodotti Con i loro prezzi Giù nell'infobox Perché per esempio Di questa non mi ricordo Non voglio dirvi cavolate Comunque la colorazione è questa Quindi sembra un viola Con del celeste all'interno Non so Sembra Si chiama blue Ma secondo me Ha qualcosa anche di viola all'interno Praticamente Ha Il tappo così dorato Le scritte così Tutte in dorato E di quelle matite Comunque retraibili La colorazione è questa Vi faccio lo swatch Sì secondo me È un viola Che ha del celeste all'interno Che non c'è l'est Che ha del viola all'interno Perché ha molto del viola Mi piaceva tantissimo Quindi l'ho voluta prendere Sapete che di solito Io le matite le prendo sempre scontate Perché ne ho tantissime Quindi tendo a fare così Però mi piaceva tantissimo E l'ho voluta prendere subito Perché era molto particolare Di queste colorazioni Ne ho pochissime Ne ho sul blu Ne ho anche sul viola Però è una colorazione Che secondo me È a metà tra i due Ed è molto particolare Quindi ho voluto prenderla E poi ho preso quest'altro Che si chiama Il kit Cosmopolitan kit Big Apple Graffiti lips Che praticamente C'è il lipstick Quindi il rossato Più la matita per le labbra E io l'ho presa Nella colorazione 04 pink Ho visto che mi piaceva tantissimo Anche quello che dava Un po' sul marroncino Però per la fine Ho voluto prendere questo Perché sono quelli che utilizzo di più Magari se l'altro Lo trovo con gli sconti Lo prenderò con gli sconti È praticamente E niente È un kit Se non sbaglio Ce ne sono circa 5 o 6 Di questi kit E all'interno Avete appunto Il rossetto E la matita Il rossetto È fatto così Quindi praticamente Qua vedete la colorazione E su c'è un tappo Tutto dorato Visto che Comunque le colorazioni Sono quelle Come nella palette La base La colorazione Era più o meno Un po' più chiara Di questa Però era tutto dorata Le scritte Sono tutte dorate Anche qui c'è Il tappo dorato Anche qui Praticamente Nello stick dorato Qua vedete la colorazione Si chiama pink Non lo so Era un rosa Un po' particolare Quindi l'ho voluto Prendere per quello Praticamente Ha del rosso Comunque all'interno Ed è molto Molto acceso Comunque Come il rossetto Quindi l'ho visto Di solito Non utilizzo questi Che hanno un po' più Di rossi all'interno E che sono così accesi Di suetuso O quelli molto scuri Oppure quelli Che danno sul nude Oppure sul malva Però non so Era particolare Non lo so Mi ha colpito Quindi l'ho voluto Prendere Invece la matita Praticamente È questa qui Quindi è quasi identica Come è fatta A quella Diciamo per occhi Anche questa è retraibile E anche questa È il tappo così dorato E ha praticamente Tutto le schede in dorato Questa ha 18 mesi di pao Mentre il rossetto Ha sempre 18 mesi di pao Uguale È praticamente Fatta così Quindi è retraibile Come l'altra Ma Vedete il colore Della matita Comunque già dall'esterno È leggermente più rosata Rispetto al rossetto È un quasi Mezzo tono Più chiaro Però non Sarà carina Sicuramente Utilizzerò anche Con altri rossetti Adesso dovrò Siccome sapete Che prima non utilizzavo Le matite Adesso le sto utilizzando Devo vedere un po' Quelle matite Ho acquistato Dato che ultimamente Non sto acquistando di più E che si possono abbinare Con tutti i rossetti che ho Non lo so Era carina Comunque Come collezione Anche se in realtà Questi sono i prodotti Insieme a un altro Pennello Che me l'ho colpita di più Come vi ho detto Mi hanno regalato la cover Sapete che io Delle vecchie collezioni Dello scorso anno Avevo tutte le cover Purtroppo non ho più L'iPhone 5 Che quelle cover Sono tutte per l'iPhone 5 Non le ho utilizzate Praticamente Una l'ho utilizzata Un po' di tempo Però poi mi si è rotto Il telefono E quindi Quando ho acquistato L'iPhone 6 Non lo Non le sto più utilizzando Ne ho utilizzate appunto Una qualche volta Però gli altri Non le sto utilizzando E quindi L'ho acquistata Per l'iPhone 6 Naturalmente E praticamente È la colorazione Diciamo Della palette Con appunto La mano di fatti Come adorata Qui c'è scritto Wicon Non lo so Era carina Poi era gratis Quindi Se dovete Prendere i prodotti Vi consiglio di prendere Se non ve la Non lo so Non lo so Non lo so Di chiedere La cover È molto Molto morbida Di quelle Molto Molto morbida Che si Che ricoprono In telefono Che di solito Non sono così Tipo dei cinesi Io di solito Preferisco quelle Che sono un po' Leggermente più rigida Però alla fine Era un regalo Era carina Quindi l'ho voluta Prendere E niente Fatemi sapere Se avete visto Questa collezione Se avete preso Qualcosa Di questa collezione Se pensate anche voi Che prezzi Sono un po' Altini Se anche voi Avete preso Questo rossetto Oppure avete preso Un'altra colorazione Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace E a presto Ciao